Un buon pomeriggio ed un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma, code tra Barberino e Calenzano per lavori, in direzione Bologna tra Calenzano e Barberino per traffico intenso. Sulla FIPILI, tra Montelupo ed Empoli Est, chiusa la corsia di sorpasso in entrambe le direzioni, con chiusura dello svincolo di Empoli Est, in ingresso in direzione Firenze. Per questo motivo un chilometro di coda in entrambe le direzioni tra Montelupo-Fiorentino ed Empoli Est. Per traffico intenso, rallentamenti in direzione Firenze tra Scandici e Firenze-Scandici. Sul raccordo Siena-Bettolle per lavori, possibili rallentamenti tra Castelnuovo-Berardenga e Casetta-Monte Aperti. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!